Musica Ovunque andiamo portiamo l'allegria Stop! Signora perché dice l'allegria? L'allegria! Ma non è che stiamo a fare lo sport per i due E su dai, ma che ragionamenti fai scusa? Chi è che non conosce questo regista? Ti chiami Antonio Colucci? A te non ti conosce nessuno Motore e azione Ho fatto parecchi film di Cristo Tutti girati qua, tutti Cristo della Basilicata Quando si fa un film, tu non lo sai C'è una gerarchia produttiva Il regista, il produttore, il distributore Ma tu certamente sei venuto perché vuoi fare un film pure tu E voi vorrei si scufesse te le soldi E' scomparsa a zina Come scomparsa? Ma chi cazzo ha attaccato? Chi cazzo ha attaccato questa roba? Volantino c'era scritto Donasi ricompensa Con la crisi che c'è Chi vuoi che dia dei soldi a te Per fare un film sulla storia di un vecchino? Ma qual è il vecchino? Pure tu però te ne esci con questo film sullo Sprega Morti Ma come fai? C'è un regista che amo molto dello Sri Lanka Pimutti Iaia Sundao Ma la conosci bene quella tentazione con la voglia di fuggire senza una ragione La Carilla La Carilla La 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 la...